Dopo 20 anni di attività si scioglie la cooperativa Valle del Bonamico con sede a San Luca, fondata dall'allora vescovo di Locri, Monsignor Giancarlo Bregantini. Ad annunciarlo sono stati lo stesso Bregantini, adesso arcivescovo di Campobasso Boiano e il consiglio di amministrazione della Coppa in una nota. La decisione sofferta, scrivono il preso le componenti del CdA, è nata in seguito ad un'attenta valutazione di molteplici fattori. Prima di tutto possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi prefissati, poiché sono state create solide iniziative di lavoro agricolo, specie nella coltivazione dei piccoli frutti. Attività che hanno dato a molti giovani l'occasione di poter uscire dalla precarietà, permettendo loro di vivere uno stile di vita più sereno e più tranquillo, in scelta di vera legalità. Da questa prima esperienza si è passate da altre iniziative imprenditoriali, in un crescendo entusiasmante di speranze progettuali. Il culmine è stato raggiunto nel progetto di inclusione sociale Potamos, finanziato dall'UE e supportato dalla Prefettura e dal Ministero della Giustizia. Tale progetto, per i suoi risultati di produzione e lavoro nei settori dei piccoli frutti, del formaggio, del maiale nero, è stato indicato tra le best practices in agricoltura dal prestigioso Istituto Internazionale OXE. Resta ovviamente intatta la collaborazione con il Trentino, in particolare con la cooperativa Sant'Orsola, che di fatto, nei primi momenti di avvio, ha retto la fase promozionale e soprattutto quella formativa e commerciale. Nell'attività svolta dalle due cooperative si è potuto vivere quell'intreccio di reciprocità che è indispensabile per la costruzione del bene comune, senza concorrenza, ma camminando insieme su percorsi di feconda collaborazione. Un piccolo modello socio-economico, si legge nella nota scritta da Monsignor Brigantini e dall'amministrazione della COP, che potrebbe essere imitato ed esteso. I nostri soci iniziali sono nel tempo progressivamente e naturalmente passate alla Sant'Orsola o ad altri partenariati commerciali, maturando con la pianezza di crescita culturale e sociale. Anche per questo innesso, nelle altre realtà cooperative e imprenditoriali, si è evidenziata una crescente pesantezza finanziaria nel mantenimento della nostra cooperativa, fattore non ultimo che ci ha indotto, concludono a fare la scelta di chiusura dell'esperienza tecnica, restando intatto il percorso sul piano motivazionale. Ormai, infatti, la cooperativa Valle del Buon Amico restava inutilizzata, pur mantenendo originari meriti di lancio delle attività.